Non sono in controluce, ok Benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Sono Amaste06 E oggi qua sono nello speciale 80 iscritti ragazzi Vi ringrazio un sacco Non è altro, guardo grandissimo Grazie per le notifiche Anche lui è molto contento Nel caso non avreste capito Perché qua insieme a me Comunque ragazzi per questo speciale 80 iscritti vi pubblicherò 4 video inerenti a questo speciale Ragazzi mi sono anche accorto Che l'8 maggio Tipo 3 o 4 2 o 3 settimane fa Erano 3 anni del mio canale E non me ne sono accorto ragazzi Sono stupido Ragazzi questo è lo speciale Degli 80 iscritti Il primo ragazzi Vi lascio il primo video perché è una bomba Buonissimo Bene a tutti ragazzi e ben ritornati Finalmente dal vostro master 06 E oggi siamo nel primo speciale Degli 80 iscritti ragazzi Vi ringrazio di cuore il primo Dei 4 E oggi ragazzi per il primo speciale Siamo nel gioco Che sta spopolando nel mio canale Di nome Paperio Oggi ragazzi sono nella modalità Small map Perché voglio provare a dominare Tutta quanta la mappa Quindi si parte Oggi non necessito di arrivare primo Ma di nominare La mappa Quindi diventare primo Sì Io esulto ma Non me ne frega un cazzo Va bene? Sempre se sti bastardi Si facessero i cazzo Ok Ho lasciato lì lo spazietto Oh Ti devi spaziettare Ok Non spazientire Allora qua arrivo di diritto primo No 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 Ma mai nella vita frate Mai nella vita Che non t'ho preso Guarda Allora Education è il primo Che sta da parte Allora Giovanni Midi Gregorio No Ah Maledizione 10.00 Ragazzi Più preciso di così Che si può Ci entro di diritto in classifica Facendo sta roba Ok Allora Piano piano Ehm Arriviamo a prendere La classifica Ragazzi Un'altra prova che per io Non è contributo E poi la smetto E poi la smetto con sta roba È il fatto che La gente è sveglia E ti può uccidere Cioè Non è Non è rincoglionita Tipo nel video di Tifo Nel video quando fa 100% map control La gente potrebbe La gente potrebbe tranquillamente Ucciderlo Ma Non capisco perché Non lo uccidono E invece nel mio caso Sì Vuol dire che è online Se lo lasciano stare E sono primo Ragazzi Ma chi se ne frega Ragazzi Io voglio Arrivare Al 100% Map control Di tua Direi di quella Mignottina Hai capito Frati Io sono Ragustar Quando mangio La pasta Ragù Faccio Il Ragustar Dovrei inventarla Sta canzone Se vi immaginate Tipo Occidentalist Bug Guarda Il mio canale Inizio è spopolata Si è dispersa Nei meandri Del canale Allora ragazzi Siamo Ci stiamo avvicinando Verso il primo Che è Fox Fox Sports Questo qua è il secondo Ragazzi Adesso diventerà terzo Perché secondo Ci arrivo io Eh Sì Allora siete strozzi C'è il primo E il secondo Vicini You can't see me Stava spaccando Il suo castello Non si sa perché Il primo è Ashley Quella di Wii Quella della Wii Va bene Ragazzi Facciamo Questo Sta roba Di provare A controllare Tutta la mappa Non ce la faccio Perché è impossibile Cosa vuoi fare Fratti Intanto sono primo Primo per due partite Di seguito Quindi Primo un'altra volta Ragazzi Mamma mia Che skill C'è ragazzi Qua l'ho evitato Tantissimo Poi l'ho Gli l'ho infilato Nel deretano Pup Questo qua è È il qui È il quinto Modano Di quello Modano Cosa c'è No United Kingdom Ragazzi Ci sta prendendo Maledetto Regno Unito Cosa vuoi fare Eccolo Eccolo Sto bastardo Vieni qua Vieni qua Eh Cosa volevi fare United Kingdom Vai a giocare A Rise of Kingdoms Spot per noi Ok ragazzi Dopo lo spot Incredibile Di Di Mike Showsha No Di X Murray Scusate Possiamo riprendere A giocare Anche perché Ho messo Si è messo solo in pausa La partita Ma Il limite è andato avanti Quindi Andiamo avanti Questo qua è Il terzo Non è vero Non è vero Comunque ragazzi Sono a 21 Non mi era mai capitato Di fare così alto Potrei provare A puntare A fare sto merda Di 100% Che comunque Sarebbe Una bella cosa E qua mi prende un bottone Ma Cosa vuoi fare Cosa vuoi fare Frate dimmelo Cosa vuoi fare Cosa Così prendiamo un accordo E poi Se mi va bene Te lo lascio fare Sempre se mi va bene Ragazzi Eta mirabella Quello dell'altra volta E i terzo Vedete che non è Che non è un bot Se ritorna Vuol dire che c'è E non è un computer È online Online Allora Sto verde Se non mi prende Faccio il ponte Ok Ragazzi Comunque 36 Non sono mai Arrivato così avanti Mi sono prendo Sempre di me stesso Non ho gioco A questi giochi Se qua Voglio come un coglione Sono veramente Un coglione Rantom Ragazzi Sto dominando Praticamente Tutta la mappa Di tua madre Rantom Wow God Siamo in 4 Ragazzi Siamo solo in 4 Non mi uccidete Vi prego Ok Ho bisogno Di fare i video Per i miei ragazzi I miei 80 ragazzi Che non guardano Un minimo I miei video Però vabbè Sono iscritti comunque Secondo me St'Austria Mi ucciderà Prima o poi Perché È lì proprio Pronta a rompere Le palle Cosa fa questo qua Oh 5 minute Freddies FNAF 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 Comunque siamo quasi Arca puttana Porr Pucca merda Cioè Ho dominato praticamente Metà mappa Vabbè Riprendiamo E stavolta Provo veramente A farlo Se non mi spavrino Vicino al bordo Sì Ma morirò tipo adesso Morirò tipo subito Però Incredibile Ma vaffanculo Peekaboo Ci ho provato Comunque ragazzi Ci ho provato E che E vaffanculo Oh E E E E E Il Secondo si chiama Renal Che ha fatto male I calcoli renali Indiana Jones Vieni qua Eh Eh Frate Ultimo minuto Di Di Cazzo Di cazzo Sì Allora Primo tre volte Ragazzi Primo tre volte Trovo pro player Oh T'ho seguito Fino a lì E non m'hanno ucciso Non m'hanno ucciso Ragazzi Non m'hanno ucciso Non so se vi vedete Quando non m'hanno ucciso Va bene da ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Comunque Tre volte di fila Io spero che questo video Vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Noi ci vediamo Nel prossimo video Qua da Massa Stero sei tutto Bello ragazzi E niente ragazzi Insomma Questo era il video Spero che vi sia piaciuto In tutto il periodo Sono arrivato Primo per tre volte di fila Questo è il pupazzetto Che È super contento Fega E niente ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Al commento Lasciate un commento Mi piace Iscrivetevi al canale Attivate la cazzo Di campanellina Se non volete perdervi Gli altri tre speciali Che pubblicherò Devo ancora editare Noi ci vediamo Nel prossimo video Qua da Massa Stasso 06 È tutto Noi ci vediamo